Guardi, fino a quando non si leggono tutte le carte nella loro inderezza, farsi idee sarebbe il più grosso errore che ci può essere sulla faccia della terra. Così Antonio Di Michele, avvocato difensore di Giovanni Imparato, capo del settore legale e di fatto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, arrestato il 10 maggio, ora ai domiciliari, per un presunto passaggio di mazzette finalizzata ad ammorbidire un contenzioso fiscale e che oggi è stato ascoltato nel Tribunale dell'Aquila dal PM della Direzione Distrettuale Antimafia, David Mancini. L'attività investigativa ha interessato l'operato di Imparato, nei suoi vestiti funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nei riguardi della CrossCittà Mercato, società gravata da un pesante contenzioso tributario da ben 38 milioni di euro. In particolare, nella mattinata del 19 aprile scorso, le Fiamme Gialle e Pescaresi hanno filmato a Roma un incontro tra i due indagati, immortalando la consegna al pubblico funzionario da parte del commercialista Lavalle di una busta contenente 15 mila euro. Una mazzetta, secondo l'accusa pagata per pilotare, a favore del contribuente, il pesante contenzioso e per interrompere l'azione di pignoramento già intrapresa da Quitalia sui beni della società. Ipotesi del resto rafforzata da un'intercettazione ambientale, in cui Imparato esclama Un milione a me spetta, io semilo sempre e poi raccolgo quando si raccoglie. E ancora, sai quanto vale questo scritto che ho fatto io? Sono 38 milioni e un milione spetta a me. L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che si costituirà parte civile, a tutela della propria immagine, nell'ipotesi in cui venisse instaurato il procedimento penale.